La Germania e l'Europa non sono più sicure. L'estrema destra va all'attacco di Angela Merkel addossando al governo di Berlino la corresponsabilità dell'attentato al mercato di Natale. Sono i morti della Merkel, scrive in un tweet l'eurodeputato Marcus Pretzel, uno dei leader di Alternativa per la Germania, ricordando la decisione della cancelliera di aprire le frontiere ai profughi. Dalla Francia, la leader del Front National, Marine Le Pen, chiede di ripristinare immediatamente le frontiere nazionali. In un comunicato, la candidata dei presidenziali del 2017 pretende lo stop immediato del progetto di distribuzione dei migranti nei paesi dell'Unione Europea. Il leader ultranazionalista dei Paesi Bassi, Gert Wilders, favorito alle prossime elezioni politiche, propone un fotomontaggio della Merkel con le mani e il viso sporchi di sangue. La strage di Berlino non è una sorpresa per il campione della Brexit, Nigel Farage, ma è l'eredità della cancelliera tedesca. Il suo tweet ha scatenato nel Regno Unito la polemica con Brendan Cox, il vedovo della deputata laborista Joe Cox.